4.000 aziende che danno lavoro a 13.000 addetti. Con questi numeri le imprese artigiane di Bassano sono il motore dell'economia del territorio. Il mandamento si è ritrovato per l'ottava edizione del premio fedeltà che omaggia chi in tanti anni ha creduto nel lavoro e nell'associazione. L'artigianato è un patrimonio di indiscussa valenza economica sociale e con tutta la giunta mandamentale sono orgoglioso di premiare e festeggiare le imprese che tanto hanno dato e continuano a dare alla loro terra e alla loro associazione. Con queste parole il presidente del mandamento di Bassano di Asso Artigiani, Sergio Serradura, ha salutato gli imprenditori artigiani, le loro famiglie e le autorità politiche del territorio bassanese che hanno gremito l'auditorium Vivaldi di Cassola dove si è tenuta l'ottava edizione del premio alla fedeltà associativa promosso dallo stesso mandamento. Molte le autorità politiche presenti, l'euro parlamentare Mara Bizzotto, l'onorevole Manuela Lanzarin, l'assessore regionale Elena Donazzan, il consigliere regionale Nicola Finco, il vicepresidente della provincia di Vicenza Dino Secco e diversi sindaci del comprensorio. Il presidente Serradura ha anche auspicato che l'esempio degli imprenditori artigiani serva alle prossime generazioni per continuare con entusiasmo a percorrere la strada segnata e che questo patrimonio continui a valorizzarsi e proliferare negli anni. Ben 73 sono state le imprese che hanno ricevuto lo speciale riconoscimento per avere raggiunto il ragguardevole traguardo dei 30 anni di lavoro e di iscrizione alla Confartigenato. E nella circostanza il mandamento ha festeggiato anche quattro dipendenti dell'associazione che per più di un trentennio hanno messo la loro professionalità al servizio delle aziende artigiane.